Siamo qui con Anna e Svetlana, l'Ucraina, giusto? Che cos'è per voi questa giornata? Cosa rappresenta? Un momento di gioia, giusto? Di condivisione? Sì, è una giornata molto importante per la nostra società, la nostra gente che abitano qua, lontano dalla casa, siamo molto contenti che abbiamo quella parrocchia, e che possiamo venire e festeggiare la nostra presa qua, perché è una giornata molto importante. Avete trovato anche molti caglianitani e sardi che sono venuti a vedere le vostre tradizioni, insomma qui ad assistere alla cerimonia? Ci sono anche le gente italiane che sono ortodossi, la messa anche in italiano, eh? Sì, la messa in italiano. Sì, anche in italiano. Anche in italiano, oggi fate premiera per inglese, tedesco, a tutti quasi slavo, russo, italiano, tedesco e inglese. Inghilze. Inghilze. Ciao.